E... Surpreso di vedermi, Crash, continuo a tornare come le pulci nel tuo pelo. Tre anni ho trascorso da solo nelle distese gelate dell'Antar... Zico, mi sei mancato. Ho organizzato una sorpresina per te, una festa di compleanno, eccetto che è l'esatto posto. Tutti i tuoi amici sono qui. Sei talmente amato. Direi di iniziare con i regali. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della Let's Play di... C'è la Let's Play, il gameplay di... Crash to Insanity. Ok. Aspettate che ci lancia il raggio. Ok, babam. Sbattuto indietro. Ok, gli abbiamo tolto una vita. Dobbiamo sconfiggere Cortex adesso. Ok, dai, dai. Adesso ci mirerà. Ah sì, ci lanciano le bombe. Questo di Dingo Dile. Oh, Ripper Roo, ma non dovevi. Che bel pensiero. Eh, due regali. Schifoso. Attenzione, 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 attenzione. Ok. Adesso lancia il raggio più caricato. Swine. Ok, rimalati indietro. Adesso ci lancerà di nuovo le bombe. Bellissima la scena animata di prima, vero? È troppo bella con tutti i nemici di Crash. Ok, ma ci lancia altre bombe. Ok. Ok. E adesso voi vi chiedete, ma come faccio? Come faccio? Scusa. Basta fare così. Sembrava più una cosa impossibile, invece no. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso carica l'ultimo raggio. Ok, ma non è finito qua il boss, ragazzi. Non è finito qua. Ok. Ti presento il tuo caro amico, il tuo nuovo compagno, che si chiama Mecha Bandicoot. Questo gigantesco robot enorme. Guardate. Ok, che lo pilota Engine. Che prima, infatti, se non ci avete fatto caso, non c'era tra i nemici di Crash. Ok, da una parte ci lancia i missili. Da una parte c'è la motosega. E poi ovviamente c'è il raggio di prima. Questo qua. Che basta rimandaglielo indietro e si danneggia. Sono i soliti boss di Crash, sapete, no? I soliti. No, cavolo, madò. Per poco il missile. Ok, ritorniamo qua. Ok, la motosega è andata. Fa cosa? Vabbè. Però ci spara solo i missili. Carica un altro raggio. Cioè, è facilissimo, perché ovviamente essendo il primo boss, non vi aspettate chissà cosa. Ok, anche quella danneggiata. Allora gli rimane solo il cannone, quindi usa solo quello. Guardate. E lo carica sempre più forte ogni volta. Guardate adesso tipo... Ok. E adesso l'ultimo che lo carica proprio... Ok, sconfitto il boss ragazzi. Quindi questa seconda parte di gameplay finisce qua. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.